Rieccoci, buon pomeriggio a tutti voi, buon mercoledì 14 agosto, vigilia di ferragosto domani. Domani sera quindi nessuna estrazione, sapete che le palline pesano per evitare infortuni sul lavoro, allora la posticeperanno per lunedì prossimo. Non vorremmo incorrere magari in qualche fortunio, sapete che tutte queste palline che girano sono pesanti, non vorremmo che magari possa succedere qualcosa a quelli che mettono a posto le Venus. Dai sto scherzando, allora, quindi domani sera nessuna estrazione, venerdì e sabato due estrazioni solo e cinque estrazioni la prossima settimana, prendiamola a ridere perché è meglio. Comunque, domani festa per tutti, per carità ci mancherebbe, l'estrazione, quindi la previsione in atto, perché ieri sera non c'è stato nessun esito, quindi c'è stato un primo colpo con l'86, nulla da fare, quindi secondo colpo venerdì questo che viene, la condizione rimane tale quale, l'86 Milano-Napoli, con la decina 1, ovvero da 14, 16, 18, passo 2, sia per Milano sia per Napoli, l'estensione anche sulla ruota nazionale, ve lo ripeto più volte perché poi, ma quando l'hai detto? quando dici così non è vero, quindi ve lo dico già adesso, l'estensione della quartina, poi se volete anche stendere gli ambi secchi, come è successo con l'ambo, me lo sono ricordato adesso, l'84-12 secco sulla nazionale, fatelo perché può succedere che arrivi l'ambo secco anche sulla ruota nazionale, comunque bellissima condizione, Milano-Napoli, secondo colpo di gioco, venerdì, allora questo video lo faccio per coloro, per ritornare al discorso del metodo Antonio Longo, ambo oltre, visto che giovedì 8 agosto si è formata la condizione perfetta su due ruote, Cagliari e Genova, rivedremo assieme i passaggi, mi raccomando, lo faccio anche per i nuovi, perché ci sono state tantissime richieste da parte vostra, allora io con calma vi faccio vedere i passaggi che si dovrebbero fare quando si trovano due ambi isotopi, se tutti e due i numeri sono isotopi, ovvero del primo ambo e del secondo ambo, la condizione è perfetta, poi c'è stato un potenziamento da parte mia della tecnica, quello sarà una cosa a parte, metterò poi il link come primo messaggio qui sotto nel video, ve lo andrete a rivedere perché si possono utilizzare altre due abbinamenti che spesso arrivano con le due ambate ricavate dal metodo originale Antonio Longo, va bene, allora questa è la condizione da portare avanti, Milano-Napoli 86-14, 86-16, 86-18, i tre ambi, come vi ripeto, se volete scorporarli anche sulla ruota nazionale, fatelo, è una sola condizione perché a voi piace così, come piace anche a me, quindi piace questa cosa perché è una sola previsione. Ora io sto facendo un favore a voi riguardo al metodo Longo, ieri sera poi per quanto riguarda la classifica integrale del 90, purtroppo non è andato a Genova, guardate perché, ve lo faccio vedere, perché poi, allora, vediamo un po' dov'era, eccolo qua, primo agosto, guardate, fra l'altro era in terza posizione, la legge del terzo, la legge del terzo, perché ho messo Genova? Perché uscendo già su Palermo, ho detto Genova, ma guardate come mi hanno fregato un'altra volta, quindi questo qua, di Palermo, Genova-Palermo, ho detto se è già uscito a Palermo, metto Genova, e invece ieri sera, ieri sera, è arrivato il 90 di nuovo a Palermo, di nuovo in terza posizione, oh, magari questo qui arriva di nuovo a Palermo, eh, perché questo ritorna a Genova-Palermo ed è in terza posizione, io spero che adesso torni a Genova a questo punto, però avete visto che il Palermo del primo agosto, Genova-Palermo, è ritornato a Palermo, e quindi questo è quanto, è per farvi vedere come vanno gli andamenti, ora, la condizione, vedete, di ieri sera, era questa, quindi Palermo-Palermo, 90 di nuovo Genova-Palermo, ora magari sono in terza posizione, guardate un pochettino come si ripetono, magari torna Palermo anziché Genova, comunque, vabbè, questa è una cosa che poi vedremo, comunque, la classifica integrale è questa, sempre Bari-Genova, Roma e Venezia, quindi Bari e Roma si spera che siano veramente le primarie, a parte Genova, che era la ruota considerata fra Genova-Palermo, è uscito di nuovo Palermo, eh, ci ha fregato di nuovo, adesso quel Palermo di nuovo Genova, ecco perché lascio Genova, quindi questo è il riferimento della classifica integrale del 90, speriamo bene che stavolta sia così, e allora adesso, come promesso, vi faccio vedere cosa è successo nell'estrazione del giovedì 8 agosto, eccola qua, allarghiamo un pochettino, no, si vede benissimo, 68 Cagliari, 68 Genova, 13 Cagliari, 13 Genova, vedete come il quadrato è perfettissimo, quindi non è che troviamo due soli numeri isotopi, qui si parla di isotopia perfetta, perché sia il 68 che il 13 sono perfettamente isotopi, e allora come si procede, vi faccio vedere di nuovo come si procede, allora non potete dire, non ho capito, perché adesso qua potete sempre riportare il video indietro, andare a vedere come si fa, eccetera, 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 allora abbiamo detto 68, 13, vedete, Lambo è perfettamente isotopi, quindi Cagliari e Genova, vedete, sono isotopi, si fa l'addizione per verticale, quindi non è che si sommano questi per così, si sommano per così, e abbiamo il risultato fuori 90, 46, 13 e 13, somma 26, quello che vi fa sempre incasinare è qua, quando trovate le somme verticali del 68, le somme verticali del 13, dovete fare questo procedimento, trovare la differenza, fra 46 e 26 c'è 20 unità, è tutto qui, quindi fra 46 e 26 ci sono 20 unità, questo 20 lo andate a dividere per 2, quindi 20 diviso 2 fa 10, cosa facciamo a questo punto? Dobbiamo riprendere i due valori trovati, delle somme, quindi 46 e 26, e dobbiamo addizionare e sottrarre, quando c'è il numero minore si addiziona, quando c'è il numero maggiore si sottrae, poche parole, dovete fare questo lavoro qui, si deve bilanciare, bilanciare a questo modo, semplice no? quindi il valore trovato, ovvero la distanza, è 20 fra i due ricavati delle somme, 20 diviso 2 fa 10, quindi riprendete i due valori trovati, e al 46 cosa andrete a fare? Andrete a sottrarlo di 10, perché è maggiore del 26, il 26 va addizionato, deve risultare uguale, questo 36 è praticamente il bilanciamento perfetto dell'ambo, quindi 36 e 36, questo valore adesso lo andremo a fare che cosa? lo andremo semplicemente a addizionare di nuovo l'ambo primario, perché il 68 e 13 è l'ambo primario, così ordinato com'è, non che il 13 lo mettete qua, quando fate l'operazione il 68 di qua, così come lo trovate, perché dico questo? perché c'è un precisamento ben preciso, l'ongo non è andato a fare un calcolo così tanto per fare, 68 e 13, 68 e 13 così com'è, perché vi dico così com'è, perché l'ambata principale sarà ricavata proprio dalla parte finale dell'ambo, che è il 13, si intende parte finale alla parte destra dell'ambo, trovato il 36, dopo si riprende l'ambo di partenza, 68 e 13, e andiamo ad adizionare il valore trovato che è il 36, quindi questo 36 sotto al 68, questo 36 sotto al 13, perché vi dico la parte finale dell'ambo? perché la parte finale dell'ambo è il numero 13, 13 più 36, 49, basta, prima ambata, basta, dalla parte destra dell'ambo, la parte finale è sempre l'ambata principale, 49, 13 più 36, valore, 36 più 13, 49, questa è la prima ambata, lasciata da così com'è, come si fa a trovare la seconda ambata? 14 più 49, la seconda ambata è data proprio dalla somma dei due ricavati, 14 e 49, basta, perché vi incasinate? 14 più 49, 63, 14, seconda ambata, basta, quindi l'ambo finale è il 49, 63, 49 è la prima ambata, 63 è la seconda ambata, 49, 63, su Cagliari e Genova, perché dove si trova la condizione Cagliari e Genova, quindi questo 49 e 63 è la ruota nazionale, sempre la vostra discrezione, lì non si discute, ma l'incasinamento non vedo dove lo trovate, meglio di così non si può, quindi avete tutto lo schema qua, tornate indietro col video, andate a vedere tutto il procedimento, non potete sbagliarvi perché ve l'ho spiegato veramente alla perfezione, tutto qui, poi per il potenzialmento della tecnica, lo vedrete nel video che vi lascio il link perché non mi sto a far vedere sempre tutto, l'ambo di partenza è questo qua, però può succedere che può arrivare il vertibile della seconda ambata, e il numero finale dell'ambo, insieme a queste due, che ne so, 49, 63, 36 e 13, perché il 13 e il 36 possono sempre integrarsi con questi numeri qui, comunque riguardatevi bene il video che vi metterò qua sotto come link, andatevelo a vedere perché spiego proprio il potenziamento, del metodo longo, da parte mia, che ho creato io, va bene? oltre ai vostri accorgimenti che ve l'ho detto insieme, che poi oltre a questo 13 che si può ripetere insieme a queste due ambate, ovvero 49, 63, può succedere che la seconda ambata possa arrivare come vertibile proprio col 49 o con questo, così com'è, quindi l'ambo si trova così com'è, nella parte finale, non sbagliatevi, il valore trovato, dell'ambata primaria è proprio la parte finale, 49, basta un procedimento solo, questa è la prima ambata, poi per trovare la seconda ambata finale, si fa la somma dei due ricavati, che è 63, tutto chiaro? penso di sì, dai, non potete sbagliarmi, ok, allora, io vi saluto, riguardatevi il video con calma, e poi, la condizione da portare avanti è questa, Milano, Milano, Napoli, 86, abbinamenti 14, 16, e 18, estensione della previsione, anche sulla ruota nazionale, quella del Palermo, ritorna a Genova, rilascio Genova, quindi questa finalmente dovrebbe essere la classifica integrale finale, il basamento dove si potrebbe costruire una vostra previsione, che magari avete in mente, tutto qui, allora, per ambo oltre all'ora 49, 63, Cagliari e Genova, poi per il potenziamento della tecnica, dove queste ambate possono arrivare con queste due ambate, è dato dalla parte finale dell'ambo, che è il 13, e dal 36 vertibile della seconda ambate trovata, del metodo longo, che è questa, può arrivare il vertibile, e può arrivare anche questo, insieme a queste due ambate, 49, 63, 36, 13, ma questo è un potenziamento della tecnica longo, e vi ripeto, ve lo lascio qua sotto, come primo messaggio, vi auguro un buon proseguimento, noi ci risentiamo poi venerdì, dopo l'estrazione, se ci saranno sempre dei risultati, si spera, speriamo, coprire la ruota nazionale, vi lascio subito l'ultima locandina, che è questa, un abbraccio da voi tutti, Marcus. grazie, grazie, grazie,